Signora, grazie, no 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 poi dopo magari ci riprendi. Ma devono mostrare l'intervistatore, sì, dopo la fine, dopo quando fanno il controcampo. Non può rimanere anonimo. Di nuovo. Ecco, no 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 va bene questo, l'unica cosa che le raccomanderei è di andare un pochettino più ad agio. Ecco, perché lei parla molto bene italiano, ma un pochettino più lentamente. Sì, sì. E le difficoltà che sono emerse nel pontificato di Giovanni Paolo II? Sono le difficoltà del nostro periodo, cioè materialismo, agnosticismo, relativismo, una vita per il consumo e dall'altra parte la miseria che impedisce l'uomo di vivere realmente secondo la sua alta vocazione. e quindi i problemi del nostro mondo sono naturalmente anche i problemi della Chiesa che fa parte del mondo. Durante il Giubileo lei ha fatto soffrire tanti cristiani, specie protestanti. Il documento Dominus Iesus è stato definito fondamentalista. Lei lo riscriverebbe ancora oggi? Sì, certo. Io direi etichettare un documento come fondamentalista in modo di sottrarsi al dialogo. Dire questo è fondamentalista vuol dire io non parlo con te, quindi io non accetto questa etichetta perché non è giusta e devo anche dire che moltissimi, direi quasi tutti i protestanti erano grati per la prima parte del documento, questa confessione franca, umile e aperta che Cristo è il figlio di Dio e quindi è diverso di tutte le grandi personalità della storia delle religioni. Qui erano grati che solo la Chiesa Cattolica aveva la possibilità di parlare con questa voce al mondo su Cristo. Il secondo punto, naturalmente ha fatto difficoltà per i protestanti, ma diciamo realisticamente anche riconoscono che è bene che una Chiesa possa pensare che in questa Chiesa è vivo il soggetto Chiesa. Chiesa non è solo un sogno per domani, ma esiste anche con tutte le insufficienze, con questo grande problema delle separazioni. Del resto, sempre più i Vescovi in Visita at Limina ci dicono proprio adesso gli ultimi gruppi dall'India siamo grati per questo documento, era necessario perché la Chiesa deve proprio oggi indicare francamente e comprensibilmente la sua identità e sono grati sempre più i Vescovi che hanno un documento nel quale appare per tutti visibilmente l'identità con la quale poi si può discutere. Le religioni sono vie ugualmente valide per raggiungere la salvezza, sono tutte complementari alla rivelazione. La parola complementare non mi piace, direi è un problema da riflettere molto più in profondo. Mi meraviglia sempre che anche persone che non si interessano per la salvezza eterna, anzi pensano sarebbe perdita di tempo parlare della salvezza eterna, a pensarci, lavorare per questo, ma insistono che tutte le religioni sarebbero vie per la salvezza eterna, per una cosa che in realtà... Ecco, questo sono un po' contra... No, perché non sono identiche, si risparmia con queste frasiologie l'impegno di conoscere realmente le religioni e anche persone che ci dicono non dobbiamo essere conservatori, tradizionalisti, conformisti, ci dicono che ognuno dovrebbe conformarsi alla sua tradizione e quindi essere conservatori. Questo non è giusto, no? Dobbiamo cercare tutti con la nostra coscienza quanto è meglio. Lei ha dichiarato, ciò che mi stupisce non è l'incredulità ma la fede, quel che sorprende non è l'agnostico ma il cristiano. Ne è tuttora convinto? Sì, perché diciamo il mondo come è ci consiglia l'agnosticismo, pensare siamo troppo piccoli, la nostra ragione è troppo facile per poter credere in Dio e che tuttavia in questo mondo così frammentato, così, diciamo, oscuro, ci sono tanti, tanti milioni di persone che credono. E' realmente un miracolo, sarei dire, e anche un segno che Dio opera in questo mondo. La Chiesa deve insegnare l'arte del vivere meglio, la strada della felicità. Secondo lei la Chiesa oggi soddisfa veramente la sede di infinito che alberga nel cuore dell'uomo? Non sempre, non sempre in modo sufficiente, ma diciamo è sempre una fonte e se uno si avvicina, si accetta anche gli aspetti umani insufficienti, può realmente nella Chiesa trovare la luce dell'eternità e trovare anche, diciamo, e sì, i segni della felicità. E' Dio che è silenzioso o è l'uomo che si allontana da Dio? Dio qualche volta si nasconde, come ci dice la Sacra Scrittura, proprio anche per invitarci di cercarlo di più, con maggiore forza, ma è soprattutto anche l'uomo che è occupato con tante cose, che diventa quasi sordo e cieco. Questo è il grande problema. Noi abbiamo tanti rumori nell'orecchio della nostra anima, tante cose negli occhi della nostra anima, che siamo quasi ciechi e sordi e dovremmo un po' liberarci, avere un po' più di attenzione interiore per poter vedere meglio. Cosa c'è che non va nella liturgia? Lei sta preparando un documento severo e restrittivo. È vero o no? Io non preparo niente perché non avrei la competenza. Il Santo Padre ha incaricato la competente congregazione per il culto divino di elaborare gli aspetti già indicati nel quinto capitolo dell'enciclica il decoro della liturgia, cioè di chiarire i punti dove realmente si sbaglia e così oscura anche la bellezza della liturgia. Quali sono, secondo il custode della fede cattolica, le più pericolose eresie del nostro tempo? Adesso non entrerei in dettagli perché mi sembra il problema centrale è quello sul quale abbiamo già parlato, cioè la nostra sordità per la voce di Dio e quindi l'agnosticismo come modo di vivere normale e vivere ogni giorno per le cose ovvie, per le cose che ci occupano immediatamente e quindi questo modo di dimenticare l'altro. Mi sembra che questo è il più grande pericolo e così si oscurano le singole cose. Per me il problema centrale è che Cristo va sempre più ridotto a una persona con grandi esperienze religiose e si perde la vera grandezza della figura di Cristo e a questo volevamo rispondere con Domino di Gesù. Quale sarà il futuro del cristianesimo? Allora nessuno può osare rispondere a questo ma in ogni caso il Signore ci dice che la Chiesa sarà sempre viva fino alla fine del mondo anche con grandi sofferenze, forse anche molto ridotta perché una volta dice se il figlio dell'uomo ritorna troverà ancora fede sulla terra quindi crisi saranno senza dubbio ma dall'altra parte sappiamo che l'uomo è sempre aperto a Dio, ha sempre la sete di Dio e Dio si fa sempre presente quindi la Chiesa come anche in passato dovrà subire tante tentazioni, sofferenze, persecuzioni ma sarà sempre anche una fonte di vita, di gioia e sarà sempre la vera forza di speranza nel mondo. Già, quando Cristo tornerà sulla terra troverà ancora la fede? Anche se il Signore parla nell'interrogativo altri testi della scrittura ci dicono si troverà la sua Chiesa e la redimerà e redimerà il mondo. Grazie. Grazie.